Consulente della sicurezza o formatori in ambito sicurezza Oggi per poter iniziare con il piede giusto per fare formazione online o live la soluzione Virtual Meeting e Learning All Inclusive fa per te Perché? Perché potrai risparmiare fino al 70% dei costi di gestione Sì, hai sentito bene, il 70% dei costi di gestione Perché grazie alla soluzione All Inclusive tu cosa potrai fare? Potrai erogare corsi in modalità e-learning rispettando i requisiti dell'accordo Stato-Regione per la tracciabilità dei discenti Potrai erogare corsi live, cioè in videoconferenza e webin come prevede anche l'accordo Stato-Regione nell'ambito della sicurezza Potrai promuovere i tuoi corsi attraverso un sito web Potrai indicizzare quel sito web e potrai vendere attraverso un sistema di e-commerce Tutto in un solo clic e tutto veri, veri, easy Ecco perché grazie alla soluzione All Inclusive di Virtual Meeting Tu otterrai il più grande vantaggio che ognuno di voi può avere Quello di sottrarre e darvi più tempo E il tempo è la risorsa fondamentale E questo è il vantaggio di una sola soluzione Potrai far decollare velocemente il tuo business E tutto in un sistema veri, easy Non devi avere conoscenze in ambito informatico Ne tu, nei tuoi collaboratori Un semplice clic e tu sarai già online con i tuoi contenuti e con i tuoi corsi E grazie alle guide online messe a disposizione e all'assistenza e supporto tecnico diretto Potrai tranquillamente fare formazione con una grande tranquillità e garanzia Ma non finisce qui le opportunità che ti offre Virtual Meeting Qui sotto avrai, clicca il link e potrai capire e conoscere chi è Virtual Meeting Cosa facciamo, chi sono i nostri clienti, la nostra esperienza nell'ambito della formazione online e live Come vedo non finisce qui Noi vi diamo un qualcosa in più, un bonus Oggi tutti i nostri clienti che acquisteranno anche la soluzione online, all inclusive Avranno la possibilità di avere un corso di marketing strategico online Che ha un valore di 199 euro e per voi è gratuito Dove potrete veramente mettere il mix e partire direttamente Se ancora sei indeciso nel poter partire con la tua formazione online Clicca il link, vai, scopri la soluzione e parti con la tua formazione online Caro consulente della sicurezza, oggi è il momento di partire Grazie